Buonasera a tutti, per il campionato di promozione, semifinale playoff, gara 3, girone D, si affrontano questa sera pallacadestro a Colagna contro il New Basket Miesi, dirigono la gara i signori Bartolini e Uncini, andiamo con la presentazione delle squadre, per il New Basket Miesi, con il numero 4 Rossini Alessandro, con il numero 5 Delcadia Danilo, con il numero 7 Cettini Diego, con il numero 8 Allegrini Luca Capitano, con il numero 10 Nobili Andrea, con il numero 11 Carmeli Steven, con il numero 12 Pallinieri Massimo, con il numero 13 Pierpaoli Andrea, con il numero 14 Zetto a Massimo, con il numero 15 Talacchio a Marco, con il numero 16 Delfino Carlo, con il numero 18 Grey Silvestre, pallacadestro a Colagna, con il numero 4 Valtasarri Alessandro, con il numero 10 Tassi Michele, con il numero 11 Rosa Fabio, con il numero 13 Catani Alberto, con il numero 14 Catani Lorenzo, con il numero 15 Pieri Lorenzo, con il numero 18 Bartistelli Filippo, con il numero 11 Pieri Lorenzo, con il numero 15 Catani Lorenzo, con il numero 19 Frangeli Francesco, capo allenatore Femmry Denis, un particolare ringraziamento alle civili degli altri a Polagna, capitolate dell'Italia Valentina, buona partita a tutti! Grazie! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti